Bayern Monaco-Copenhagen 0-0. Nulla di fatto, né per il Bayern Monaco né tanto o meno per il Copenhagen. Ieri 29 novembre 2023 venne in scena questa partita di Champions League. Le statistiche sono totalmente a favore del Bayern rispetto al Copenhagen. Molto più possesso di palla, una marea incredibile di passaggi, e una versione di passaggi più elevata rispetto al Copenhagen. Sta di fatto che la partita termina in questo modo con un nulla di fatto. Forse doveva vincere il Copenhagen, o meglio il Bayern, per 1-0, per 2-0, per 3-0, azzarda a dire. E poi però il risultato è quello di 1-0-0, maledetto. E via qua. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. Una buona giornata.